Una radiazione che ha fatto tanto rumore ha provocato polemiche ma anche solidarietà. Si tratta dell'espulsione dall'ordine degli architetti di Sernia per le condanne penali di portate di Franco Valente, noto storico divulgatore culturale della nostra regione, oltre che conservatore regionale del sito di San Vincenzo a Volturno. Questa è una cosa che a me fa un po' corridere, perché secondo un soggetto discutibile io non sarei più architetto. Mi hanno cancellato dall'ordine degli architetti per un fatto formale, per non aver fatto una comunicazione. Io credo che sia difficile scindere la mia figura dalla figura degli architetti. Ecco, una vita intera dedicata all'architettura. Io credo che una delle forme più belle di espressione dell'umanità è quella dell'architettura. Io se tornassi a vivere ritornerei a fare l'architetta. Però è un ambiente difficile, un ambiente fatto di invidie, di gelosie, di persone irriconoscenti. E allora in questo piccolo territorio c'è anche chi cerca o prova a farti le scarpe. Con me è molto difficile che ci si riesca. Una decisione è quella dell'ordine degli architetti di Sernia, che non è passata in sordina, anzi sta provocando reazioni a catena. Questa storia poi ha dei risvolti molto molto particolari, perché noi oggi siamo vittime, ma allo stesso tempo protetti da questo oggetto che è il telefono, che poi è un computer, è internet. Per cui la nostra vita privata diventa una vita pubblica. Oggi non si può più mentire. Qualunque cosa si dice prima o poi viene scoperta con internet. E allora dopo questa presunta espulsione che mi è stata fatta, si è scatenato un mondo incredibile di amici che mi scrivono. Persone che io non ho mai visto in vita mia, molti di questi li conosco, ma molti non so neanche chi siano. E si è scatenato un interesse su questa vicenda, ma con una manifestazione di affetto incredibile. Credo di aver avuto nel giro di poche ore oltre 3.000 cosiddetti mi piace, cioè adesioni alla mia attività, di colui che va cantando il Molise, ma soprattutto di sostegno in questa vicenda che sotto certi aspetti è mortificante.